I residenti del centro storico che sono andati a rinnovare i permessi per l'accesso delle loro auto nella ZTLA del comune di Arezzo hanno ricevuto subito una bella sorpresina di inizio anno. Il costo è infatti lievitato e i nuovi permessi vengono rilasciati per un periodo inferiore rispetto a prima. Se infatti fino a questo momento si pagavano 25 euro per 5 anni, a prescindere dal numero di auto in dotazione della famiglia, ora tra costo, bolli e altre spese si arriverà a 50 euro e solo per la prima auto. In questo caso il permesso durerà 3 anni e non 5. Per la seconda auto si pagheranno altri 50 euro con la differenza che il permesso sarà valido per un anno soltanto, quindi per il secondo si dovranno pagare altri 50 euro. Per la terza auto il costo arriverà addirittura a 120 euro. E sborsi notevoli per i residenti. Si prevedono permessi gratuiti solo per auto elettriche o ibride elettriche e il 30% di sconto per quelle alimentate a gas o metano. I saldi insomma. Per i residenti è un'altra batosta. Non solo hanno sempre meno servizi e negozi con il centro che si sta sempre più desertificando, ma pagano anche un altro dazio. Quello ad esempio di poter ricevere visite di amici e parenti che arrivano con l'auto da fuori solo negli orari di apertura dei varchi. Anche perché i parcheggi, come sappiamo, sono spesso troppo distanti e poco fruibili. E adesso i residenti dovranno ancora mettere la mano al loro portafoglio.